no eccoci qua avventura finita si torna la fifa craft sei contento? nooo in realtà mi piacerebbe stare qui sta tranquillo un giorno ci torneremo andiamo dai aaaah forci aggiornamenti di mano sono giunti i delfini adesso ci... chi mai ha ancora un po' ruolato e pensato forse farà una ragione io... almeno male che che cosa è successo we were chi fa gamer è scappato com'è possibile nessuno poteva rompere queste qui a mano com'è possibile? com'è possibile? no non è possibile wulf abbiamo impedito il... il rito wulf si ma potrebbe anche essere che irobrane è tornato in vita lo stesso se ne cosa penso che dovremmo andare da madonna la rivista wulf andiamo da madonna la rivista wulf vabbè penso che la fifa craft dovrà aspettare perchè se irobrane è tornato in vita che è impossibile se irobrane è tornato in vita penso che resteremo ancora un po' in... 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 presto dobbiamo andare madonna la rivista madonna la rivista oh che bello di vederti ci vediamo spesso questa volta beh vorrei sapere una cosa irobrane è tornato in vita oppure no? mmm la domanda molto difficile questa è fammi leggere mmm che cosa? si oh cavolo grazie la rivista allora wulf hai saputo qualcosa wulf? irobrane è tornato in vita perfetto adesso che sei tornato in vita la prima parte è conclusa adesso dobbiamo solo scatenare guai durante la cina in tutta la cina hm 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 tu che cosa mi consigli attaccare il palazzo geniale veramente geniale possiamo attaccare il palazzo solo che prima dovremmo togliere di torno quell'odioso di fifa gamer fifa gamer e mi raccomando se cerca di convertirti tu non lo ascoltare perché lui dice solo un mucchio di cavolate lui ti ha ucciso me lo ricordo perfettamente ti ho osservato che combattevi con coraggio e da quel momento ho sempre saputo che noi due saremmo stati alleati solo che poi ti ho visto morire è stato terribile ma adesso che sei tornato in vita puoi riprenderti il tuo vero onore quello che ti aspetta di diritto sovrano della cina esatto che dici continuiamo a provocare altre esplosioni oppure vuoi ecco si è messo a piovere allora decidi tu cosa fare allora ho io il piano che ci serve quindi sto dicendo che irobrine è tornato in vita si e non è affatto una buona situazione e allora dobbiamo combatterlo mi dispiace sua maestà ma questa volta non sono con lei irobrine è troppo potente perderemo solo truppe forse io potrei no ragazzo e quel tizio non è più quello che conoscevi no io sento che c'è ancora in buono di lui anche se non l'ho mai visto da quando è ritornato in vita stia tranquillo stia tranquillo non la deluderò mi raccomando prova a convertirlo ma non ti prometto niente Jack allora che ti ha detto penso che potrei provare a combattere è pura follia hai visto cosa ha fatto alle costruzioni alcune costruzioni in cina sì ma dentro è pur sempre Steve devo affrontarlo niente azioni approvate azzardate scusa e allora che facciamo non lo so lo vado a cercare per ritrovare l'uomo che ho conosciuto ho cercato in ogni posto nella cina non penso che sia il tempo della risurrezione visto che è stato raso al suolo almeno una parte no no non stanno lì perché ci ho appena controllato non c'erano proprio adesso cioè sono appena venuto qui sempre se non ci sia qualche stanza segreta comunque ho controllato veramente tutta la cina ma non ne ho trovato traccia eh chissà dove sta e se riuscirò a ritasformarlo a Steve lo Steve che conoscevo eh io ci provo devo fare almeno un tentativo eh la cina potrebbe cadere a pezzi se fallisco eh sta guillando il telefono ah no il nuovo orecchio che mi ha dato la cina allora sì 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 oh cavolo Herobrine è al palazzo oh sì sì